Anche a Chieti, grande festa per i 160 anni della Croce Rossa italiana, corso Maruccino vestito di rosso e spettacolo di beneficenza in teatro. Il corso ha ospitato il villaggio con stand informativi sulle molteplici attività che l'Associazione di Volontariato svolge ogni giorno, mentre il Teatro Maruccino ha ospitato lo spettacolo Il Diritto alla Felicità, scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi. Ascoltiamo Massimo Montebello, presidente e comitato Croce Rossa a Chieti. Quest'anno ricorre il 160esimo anniversario della Fondazione della Croce Rossa italiana e a livello nazionale stiamo organizzando degli eventi su cui facciamo dimostrazione di tutte le attività che fa Croce Rossa, dalla donazione sangue a servizi sanitari, al servizio sociale, il corpo militare, il corpo delle infermiere volontarie e i soccorsi speciali con attrezzature e mezzi speciali. Il comitato di Chieti è un comitato che si estende su tutto il territorio della provincia di Chieti. È un gruppo che ha molte specializzazioni come i soccorsi speciali, è stato impegnato anche nell'emergenza alluvione in Emilia Romagna, il corpo militare che troverete sulla postazione del corpo militare e delle infermiere volontarie. Tante, come detto, le iniziative e è importante il ruolo della Croce Rossa sul territorio. Sì, allora, Croce Rossa sul territorio della provincia di Chieti svolge servizi di emergenza urgenza in convenzione con il 118 Colase, svolge servizi di soccorsi speciali con le squadre di soccorsi speciali, servizi di divulgazione alle manovre di sostituzione pediatra, di divulgazione alle manovre di EBLSD. Abbiamo un centro presso il comitato di Chieti, che è via Pietrofalco e ad Ortona, che si occupa di assistenza alla popolazione bisognosa, quindi di tutto quello che c'è bisogno per assistenza alle famiglie. E in più fa tutte le attività di protezione civile su tutto il territorio nazionale e anche internazionale.